Stilato il programma religioso delle feste patronali ad Adrano che inizieranno domenica 31 luglio con la processione serale della Reliquia di San Pietro, un frammento di una rotula del ginocchio. Da venerdì a domenica triduo di preparazione che precederà la processione della Reliquia, mentre il simulacro di San Pietro, primo Papa della Storia, andrà in processione lunedì 1 agosto dopo la Santa Messa delle 19.30. Mercoledì 27 luglio invece inizia il settenario di preparazione per la festa di San Nicolò Politi, padrone e concittadino di Adrano. Due le celebrazioni giornaliere eucaristiche, la mattina alle 8 nella Chiesa del Santo e il pomeriggio alle 18.15 nella Chiesa di Maria Santissima, ausiliatrice, dove verrà esposta anche la Reliquia del Santo Eremita. Giorno 2 agosto il primo abbraccio a San Nicolò Politi con la breve processione mattutina delle 11 in cui si terrà la tradizionale benedizione dei bambini. Nel pomeriggio alle 18 è il momento istituzionale della festa con l'omaggio floreale dei sindaci di Adrano e Alcararifusi alla statua di Piazza Sant'Agostino. Alle 20 poi la processione del Sacro Teschio per il centro cittadino alla presenza di autorità religiose, civili e militari. Giorno 3 agosto il clou della festa, alle 6 del mattino la Messa dell'Aurora nel Sagrato della Chiesa di San Nicolò Politi. Alle 7 la processione mattutina del simulacro che si concluderà intorno alle 13.30. Nel pomeriggio alle 19.30 solenne celebrazione eucaristica presieduta dall'Arcivescovo Metropolita dell'Arcidiocesi di Catania, Monsignor Luigi Renna, terminata la quale si terrà la breve processione del simulacro, la corsa in corso Garibaldi e la volata dell'Angelo. Giorno 4 agosto alle 9 processione mattutina del simulacro per le vie della parrocchia della Chiesa Madre. Poi nel pomeriggio dopo la Messa delle 19 ultima processione del simulacro del Santo Eremita. Per quanto riguarda invece la festa della Madonna della Catena è iniziata la quindicina di preparazione con due messe giornaliere alle 8.30 e alle 18.15. La notte tra il 4 e il 5 agosto la Chiesa resterà aperta tutta la notte per accogliere i tanti pellegrini che si recheranno dalla Vergine Maria. Alle 18 poi la processione con il rientro del simulacro intorno alle 22 calerà il sipario sulle feste patronali 2022 ad Adrano.